Io mi occupo di rilievi e di mele culturali, soprattutto in sezione archeologica. Adesso faccio vedere un video che è stato realizzato con il te. Noi non potremmo vivere insieme con le vostre donne, poiché non abbiamo le stesse consuetudini, noi e loro. Noi soppremmo tenere l'alto, scagliare i giovegliotti e non stare a cavallo. Io mi occupo di rilievi e rilievi e rilievi. Io mi occupo di rilievi e rilievi e rilievi. Io mi occupo di rilievi e rilievi e rilievi e rilievi. Scusa, dovrei passare al centro.